Nella persona dell'ultimo giorno della sua vita e si trova a riflettere un po' su quello che succederà, anzi ha sempre pensato quello che succederà quel giorno lì e poi si ritrova. Un più o meno da suono e poi c'è un cellulare che suona e non può rispondere. Ma sta beatificando. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.